Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quindicesimo episodio dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio sono successe delle cose che se io mi mettessi qua adesso a raccontarvele, voi non ci credereste, ok? Quindi io non vi sto neanche a fare il riassunto. Vi attaccate e vi andate a vedere l'episodio, perché tanto se poi le racconto e non ci credete manco fosse Gesù in Palestina, è un problema vostro e non mio. Quindi adesso voi andate e vedete il video. Detto ciò, in questo episodio, non lo so, andremo ad affrontare la palestra, boh, proveremo a praticare eutanasia su noi stessi. Prima di iniziare, oltre a lasciare un bel mi piace, proviamo a raggiungere, come al salito, i 250 like. Andiamo nella cava pietra elettrica, perché abbiamo un'evoluzione molto particolare da fare, visto che io ho deciso che basta, che adesso io mi affido alla sorte, perché qua abbiamo un doduo e qui un cabuto che si sta per evolvere. E io, io lo so ragazzi, cioè, allora, non è possibile che tutte le evoluzioni facciano schifo, cioè, non tutte. Quindi, per forza, un'evoluzione deve essere buona. Io credo in questo cabuto. Quindi adesso sapete che c'è... No, cioè, non puoi non essere salito di livello uccidendo un cazzo di uccello a due teste. Non è contemplato dalla metafisica platonica tutto ciò. Allora, questo bellissimo Floazel deve cercare di morire al più presto, perché io non è che posso arrivare... Mi sta per morire cabuto contro un selvatico. La commozione si sta impadronendo del mio Pokémon. Ed è la commozione celebrale, non la commozione come sentimento. Allora, John Frog, uccidilo, perché adesso abbiamo un'emozione di cab... Io... Io, ragazzi, mi alzo. Io mi alzo, perché... Allora... Io mi alzo, ragazzi. Allora, deve... Ammirate la pancetta, però io non posso farcela, non può non essere decente. Qui adesso io mi alzo in devota preghiera e... Non posso dare della puttana a questo Pokémon, perché poi mi accusano di pedofilia. Ho trovato una 2000. E non gli ho dato neanche il soprannomero che ci penso, tipo veleno spettro, statistiche... E che, tipo, penso che uno starter al 5 le abbia più alte. Bene. Nuovo membro del team... Smoochum. Che noi chiameremo 2000 in sidebar, anche se il suo nome non è quello. Ce ne sbattiamo altamente, siamo molto unfamily friendly. Tipo... Che vuol dire... Amici della non famiglia. E non... Non... Non family... Vabbè, insomma, dai, andiamo verso la palestra. Mi sono anche rotto le palle. Signori, settima evoluzione della serie giù di lì. Settimo Pokémon aberrante. Perfetto. Noto con piacere che questa serie mi sta sempre dando le soddisfazioni. Olè! Siamo finalmente entrati in palestra. Ma... No, aspetta, che cazzo? Ma... Ah! Ok, perfetto. Non mi ricordavo sta palestra, rag. È vero che ha subito il design? Cioè, il redesign. Che, tipo, nella scorsa... Cioè, nello scorso gioco era praticamente... Dei cannoni che ti sparavano nel cyberspazio. Qua, invece, è il vento che è più figa. Perfetto. Ci siamo. Solo che io non ricordo effettivamente cosa succeda. Tipo, se sto qua, il vento non mi colpisce. Ok, perfetto. Quindi devo camminare e... Ok, no, no, aspettate, aspettate. Affrontiamo il comandante. Cavolo che vento. No, no, assolutamente. Avevo appena sbattuto contro un muro. Manco fossi il ragazzo sfigato nelle scuole americane. Ma no, assolutamente. Marco, perfetto. Il po' con preferito del rocce. Sentite che perle di cultura. Taggate il yuk su Instagram dicendogli che l'ho citato nel video. Ma tanto lui li guarda sti video, quindi lo sa. E... Allora, fermi tutti. No, ACDC. Allora, non puoi fallire con oltre a zucca. Ok, perfetto. Vedi che basta spronarli al meglio questi Pokémon, no? A parte Kabuto che ovviamente poi si deve volvere i smoochium. Tra l'altro, mi hanno consigliato fuori parte delle entità particolari di sfruttare la calmanella. E siccome capita fagiolo, visto che smoochium si evolve per l'appunto tramite l'ausilio di felicità, se riuscissi a ricavare la campanella... La campanella... Eh, premete la campanella, mi raffondano. Premete la calmanella. Ho due calmanelle. Questo quando è cazzo successo? Allora, prima metri davanti smoochium perché magari si rievolve. Non lo so, eh. Dico io, congiunzioni astrali strane. Allora, mettiamoci dietro sto muro per... No, se mi spazi via bestemmia. Ok, no, perfetto. Reggo, 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 reggo tutto, raga. Madonna, c'ho... Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no! Eh sì, mi si è pure staccata la cuffia, ma... Ma Dio. Allora, fermi tutti. Sto vento, raga, è infame. Nasconditi, nasconditi, nasconditi. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Allora, questa palestra è la palestra del suicidio assistito. Perfetto. La pop... La pop... La pop... La pop... La pop... Apoptosi, sì. Come si diceva, eh. Non è importante. Allora, qua abbiamo un altro signor comandante di Trenitalia. Eh, di Trenitalia. Di Alitalia, perfetto. Prendo talmente tanti treni nella mia vita che ormai mi sono fissato. Ok, perfetto. Crystal Juggler, perfetto. Direttamente da Pokémon Cristallo. Evidentemente dal nome. Vabbè. Mandiamo ai CDC. Vediamo di far fuori questo bellissimo Zangus, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo Pokémon. Perché io lo trovo figo. Però so che non tutti la pensano così. Ok, perfetto. Stavo già bestemmiando. Perché Devastomasso non me lo fai. Sia chiaro. Soprattutto non su Zapdos che mi viene il coccolone al cuore proprio. Finisco in terapia intensiva. Non vorrei morire. Grazie. No, perché io odio il vento. Odio il vento. Questo episodio potrebbe chiamarsi Odio il vento. Se solo non esistesse su YouTube la legge del clickbait che mi imponesse di fare clickbait. Per l'appunto. Nasconditi qua. No, no. Mi chiedo se mi spazi via. Odio. Ce l'ho fatta. Mi sono salvato. Non ci credo neanch'io. Allora, fermi tutti. Quest'uomo qua, dall'ammirabile faccia, mi deve affrontare. Per l'altra raga. Qua sono tutti i conducenti di aerei. Si dice? No, piloti si dice. Non conducenti. Conducenti sono quelli del treno, per l'appunto. Allora, in questa serie abbiamo scoperto che si chiamano tutti Webster. Ne avrò incontrati dodici. Dodici Webster, raga. Mamma mia. Manco fossero le Webster. Cioè, però, i Webster. Che cazzo vuol dire poi i Webster? Vuol dire qualcosa, effettivamente, se non sbaglio in inglese. Vabbè, sti cazze. La precisione di change. Guarda, vuoi vedere come cala la mia precisione? Mamma mia, ti prendo in piedi. Ovviamente ho missato. Dai, muro di fumo. Ma... Dai, muro di fumo. Ma che cazzo è? Ma potrei fare il black humor? Però non posso. Non posso. Soprattutto oggi non posso. Dai, no. Non devo spostare. Oh, è morto. Che figo. Raga, ho appena distrutto il Blue Yeti. Perfetto. Alla Kazam. Avrei potuto switchar. Manage. Alla. E poi qua, ovviamente, non posso parlare, come al solito, per l'ottica del Family Friendly. Uh. Change. Mi stupisci con queste mosse arcane. Eh, porco. Neanche il tempo di mettere fuori il piede dal muro che uno viene spazzato via, manco fosse... Fosse, sì, certo, le fosse comuni dove finirò probabilmente dopo sto video. No, codifica, non devi laggare, mannaggia te. Allora, fermi tutti. Camminiamo veloce. Dove devo andare? Dove... No, devo... No, no, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Ok, sono qua. Non puoi lanciarmi via. C'è la cassa. Ok, sono un genio, raga. C'era la cassa. Sono finito spattaciato contro una cassa, ma sono ancora qua. Non vi liberate così facilmente di me. Affrontiamo quest'uomo dalla dubbia entità psicologica. Allora, vediamo un po'. Zoi juggler. Juggler, sì. Zoi. Sei un maschio. Zoi. Ok, perfetto. Zoi. Per l'appunto. La psicologia, come vi stavo dicendo prima. Allora, surge. Sorge, non si può sentire, però. Surge. Con questa bella pronuncia molto... Ma li sto sciuttando tutti? Ma cosa sta succedendo, raga? Ma si sono fatti di metanfetamine i miei Pokémon? Non capisco, raga. Li sto uccidendo tutti, ma dal primo all'ultimo. Incredibile. Allora, fermi. Muro. Allora. Capace che arriviamo dal capo palestra, se Dio vuole, con Smoochum evoluto. Ma quanto siamo? Siamo a 8 minuti e 21 secondi. Interessante. No, no. Se mi spazi via, bestemmio. Grazie. Allora, proseguiamo. Dove devo andare? Ho sbagliato strada. Ah! Ok, è appena successo una cosa mistica. Praticamente... Cioè, praticamente il vento mi ha portato dove effettivamente dovevo andare. Che cazzo è appena successo? Allora, fermi. Mandiamo John Frog, vediamo di risolvere la situazione. Allora, io vi giuro che volevo mandare in campo John Frog. Non volevo mandare... Eh sì, sì. Volevo mandare John Frog. Ve lo posso giurare. Mi metto qua, vado dal prete, mi confesso e posso giurare che no... Smoochum contro Smoochum. Interessante. Però, se io voglio mandare Smoochum e poi mando Surge, ho un po' dei trauma cranici abbastanza evidenti, ragazzi. Ho dei traumi cranici abbastanza evidenti, privazione, ti privo della vita, levati. Ma sgancia pesi cosa? Che, madonna, porto pesi sul collo. Che poi è un po' di tempo che effettivamente non vediamo il nostro rivale Tony, raga. Un po' di tempo che non vediamo Tony F. Dobbiamo rincontrarlo perché altrimenti poi non sono contento. Allora, penso di essere arrivato... Sì, ok, perfetto. Allora, Smoochum ha dei problemi a livello logistico, a quanto pare, essendo che è ancora conciato di merda. Quindi direi che, ragazzi, lo teniamo via per questa battaglia. Siamo a dieci minuti spaccati. Direi di iniziare la battaglia con Anemone, che curiosamente si chiama Anemone ed è un'allenatrice di tipo volante. Tia! Lo sapevo, Tia, che tu mi nascondevi qualcosa. Tia, capo palestra, io lo sapevo, trainer. Lo sapevo che eri... Che eri un'entità. Mamma mia. Ho il titolo clickbait. Perché... Perché mi devo incadere i pantaloni a topi? Ecco il regalo. Ho il titolo clickbait. Ma... Trainer Tia, capo palestra. Ma volete vedere quante ragazzine a tiro in sto video? Mamma mia. Quante dà che non avete idea. Allora, fermi tutti. Muori, grazie. Aiuto, raga. Mi sento male. Ok, fermimi. Signori, Trainer Tia sta mandando in campo la forma alternativa di John Frog. Trainer Tia sta provando a sconfiggerci con le nostre stesse armi. Ma sappiamo tutti che un John Frog può essere sconfitto solo da un John Frog. Mega assorbimento. Assorbi la tua forma alternativa e raggiungi l'apice della potenza. Non gli hai fatto niente. Interessante. Forza antica. Si, ho appena mosso il joystick con la bocca, nel caso ve lo stesse chiedendo. Vento gelato. No, 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 no. Uh! 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 Fermi, 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 fermi. Uh! Mi stava schiettando John Frog, ok. Non va bene sta cosa. Fermi, fermi. Allora, ok, lui ha fatto vento gelato. Se io mando i CDC, dovrebbe missare perché non può colpirmi. Ok, sì, ok. Sto iniziando a imparare i tipi alternativi di sta serie. Urlo rabbia. Che sono seriamente incazzato. Gli sto diminuendo statistiche che non sapevo esistessero. Allora, fermi, mi sta aprendo Zapdos, ok. Tra l'altro a livello 41, raga, io sono convinto che in Pokémon Nero 2 e Bianco 2 non fossero a sti livelli. Ho aumentato la forza dei Pokémon e l'ho fatto pure troppo, mi sa. Ok, calma. Calma, 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 calma. Veleno spina. Veicola forza, non dovrebbe farmi troppo. Veleno spina, non curarti! Muori! Ok. Brutto colpo! Brutto colpo, sì. Sì, Ariados, fermi. Allora, qua posso addirittura permettermi la pazzia. Posso mandare Smoochum e poi switchare, perché è un Ariados, non penso, cheat, non penso che sia così tanto pericoloso. Ovviamente lo switch è Smoochum perché sono pazzo ma fino a una certa. Allora, change, vai tu, fammi vedere qualcosa di decente, ti prego. Veicola forza, fallisce l'attacco, perfetto, brucia tutto. Aia, getta guscio. Sciottalo, 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 sciottalo. È necessario, urge che tu lo sciotti. Ok, sì, sì. Ok, non si evolve nemmeno Smoochum perché non sale di livello. Ok, ce l'ho fatta. Tia, tia capopalestra mi ha spezzato, che poi era scritto Tia cyclist. O cyclist, però, però sti cavoli, c'è il titolo clickbait forse. Non lo so, dipende dall'evoluzione che avrà Smoochum, se ce l'avrà soprattutto. Perché io sono stanco di mettere nei titoli l'evoluzione peggiore. Cioè, fanno tutte schifo e amen, facciamoci una ragione. Sì, ma io non volevo andare qua, se mi permetti. Ah, sono un deficiente cronico. Non era quello che avrei dovuto fare. È bella lì. Allora, fermi tutti. C'era un modo molto più veloce per tornare indietro. E io sono stupido in culo, però. Eh, daglie, però, adesso mi spara dentro. Ok, perfetto. Mi spara dentro, suona particolarmente male, Creepy. Ricordati, non vanno utilizzate taluni, talune, espressioni. Perché, essendo espressioni un termine femminile, bisogna utilizzare il correlativo adatto. Eh, basta, adesso, grazie, fatemi uscire. Allora, non vorrei dire una cavolata, ma adesso dovrebbe uscire la cavopalestra. Esatto, grande tia, bella. No, non sei anemone, figliola. Io lo so che non sei anemone. Allora, adesso arriva Ralia. Ragazzi, per chi non avesse giocato poi con Nero 2 e Bianco 2, si prenderà l'amatissimo aereo. Prima volta all'interno dei giochi Pokémon per andare verso quella che dovrebbe essere Poggio Vento, se non sbaglio. Però, ragazzi, prima abbiamo una cosa da testare, ossia la decenza di questa Roma. Vediamo se Smoochum riuscirà ad evolversi. Ora, nel caso non dovesse evolversi... Ok. Nel caso dovesse evolversi in qualcosa di schifoso, io vi invito a raggiungere 100 dislike per questo video. Ma proprio per mandare un segnale, non tanto a me, ma proprio alla serie. Ok? Se si evolve in un Pokémon di merda, io voglio 100 dislike. Voglio 100 dislike. Certo che finché mando in campo gli orsi polari, di certo non si evolverà il nostro Smoochum. Io, ragazzi, pretendo, se questo succede, ossia che si evolve in un altro Pokémon di merda, 100 dislike a questo video. Perché è giusto così? Perché è giusto che dopo una serie di cose che non vanno bene, alla serie gli si mandi un messaggio. Che si cerchi in un qualche modo di avvisare il divino e di attirare la sua attenzione. Quindi, se adesso non si evolverà in qualcosa di decente, io pretendo che questo sia il video con più dislike del mio canale. Anche se penso di avere video con effettivamente 300-400 dislike, probabilmente avrò insultato Pikachu come qualcun altro. Però, pretendo almeno 100 dislike. Adesso questo Cacchion muore. Se il nostro Smoochum si degna di salire di livello, è salito al 41. Vorrebbe imparare Vorticerba. Fermi tutti. Vorticerba. 30 di potenza. Molto interessante. Non far dimenticare. Vediamo se si evolve o no. Ok, si evolve. Adesso. Se è un Pokémon di merda, sapete tutti cosa fare. Ovviamente questo per chi è arrivato a questo punto del video, se è chiaro. 100 dislike. Adesso. Perché uno si rompe i coglioni, è una certa. Voglio 100 dislike sotto questo video. 100. Cifra spaccata. Allora. Ok che medita it. Ok che si può rievolvere. Ma, signori, questo bellissimo tipo erba mi puzza tanto di morte precoce. Particolarmente precoce. Anche se probabilmente nel prossimo episodio lo evolveremo già di nuovo. Comunque, allora, aspettate. Prima di proseguire, però, io dovrei trovare, effettivamente, Aralia e Anemone. Dove sono che devo volare a Poggio Vento e concludere questo episodio? Tra l'altro, sì, in alcuni punti la guerra, raga, io non riesco veramente a concepire il motivo. Davvero, scusatemi. È che, purtroppo, non so, penso sia il computer che sta soffrendo qualche malattia venerea o robe del genere. Però, davvero, non riesco a spiegarmi. Sì, saliamo sull'aereo. Vai. In questo... No, bello! Non l'hai sull'aereo. La butto giù. La butto giù, tipo desaparecito. Te lo giuro. Te lo giuro che la butto giù. Eh, dai, è salita. Salita sull'aereo. Dai, non potevamo metterla... Cioè, le facevamo prendere l'aereo. Ma in faccia. Non andava bene. Che bella immagine, comunque, ragazzi. Dopo aver visto anni di pixel, vedere sta roba qua è stata una cosa figa. A questo punto penso di doverti proprio spiegare perché ti ho chiesto di venire qui. Cover mi ha spiegato la situazione. Un gruppo di manicolti che si fa chiamare Team Plasma e che c'è sempre stato, ma tu ovviamente resetti la mente dopo tre anni, sta cercando di risvegliare il Pokémon leggendario e quindi giustamente prendiamo un aereo per andare a fermarlo noi, comuni ragazzini di dieci anni. Mi sa che adesso qualcosa? Vi chiederei di darmi una mano. Sì, sì, sì. Tanto so già come va a finire. Me la taglio proprio la mano e te la regalo. Guarda, proprio. Veramente, non hai idea. Ok. Allora. Conscio del fatto che questo video ha raggiunto i 100 dislike, perché io lo pretendo. Lo pretendo. Perché non è possibile che io non ottenga nemmeno un Pokémon decente. Quindi adesso si manda un segnale proprio per il prossimo episodio, per far capire che serve un Pokémon decente al posto di Meditate. Comunque, essendo che siamo a 18 minuti, direi che prima di concludere questo video, visto che lo scorso episodio è durato 33 minuti, lo faceva un po' più corso, facciamo una bella cattura al Monte Antipodi. Ti prego. No, non veno a... Cazzo, ma no. Ma no, figa. Figa, figa. No, figa, no. No, che palle. No. Mi son rotto il cazzo. 100 dislike, ma anche 110, famo. Mi son rotto le palle. Mi son rotto le palle. Non è... Non è possibile. It's impossible, dai. Ma fanno tutti schifo. Ma fanno tutti schifo. Ma dai. Venonat. Pensati. Venonat. Come lo chiamo Venonat? Occhi rossi. Lo chiamo... Lo chiamo Weed. Lo chiamo... Lo chiamo Canna. Lo chiamo Weed. Lo chiamiamo Weed. Ha gli occhi rossi. È strafatto. È il cugino scemo di Wachog. Weed. Bella lì. Anche lui in realtà si evolverà. Magari per il prossimo episodio vedo di portarlo a livello decente e poi lo evolviamo. Ma... Ma... Ma dai! Ma questa vita triste cos'è? Ma perché? Ma che ho fatto di male io. Vabbè. Signori. Il video può concludersi qua. Io rinnovo. Non vi chiedo neanche il like. Perché voi dovete lasciare 100 dislike per questo video. Vabbè. Se vedete siamo arrivati a 100 dislike. Lasciate il like. Ma... Prima i 100 dislike. Per piacere. Poi. Che altro? Mi raccomando. Passate dai social per vedere come andrà avanti questa cosa vicenda di dislike. Prendete la campanella. Iscrivetevi al canale. Non lasciate mi piace. Cosa manca? Rispondete alle domande del giorno. E commentate per l'appunto con la risposta. A taluna domanda. Dettoci ragazzi. Noi ci becchiamo in un prossimo video. O magari con meno dislike. Ecco.